Si tratta di un uomo di mezza età, attaccato al tronco di un albero con il nastro adesivo. La foto è stata pubblicata su Facebook, quasi fosse un trofeo da ostentare da parte degli autori del gesto, sicuramente degli imbecilli. L'immagine, ripresa da altri utenti della rete, è stata rilanciata, provocando l'indignazione comune. Non solo è stata violata la privacy di una persona che purtroppo non può difendersi, ma tacere di fronte a questo scempio proprio non si può. Uno scherzo, ha commentato qualche utente a giusta ragione, di qualche troglodita represso e una vergognosa indifferenza dei tanti passanti che hanno visto il poveretto attaccato all'albero. La vittima, come ha sottolineato il sindaco di Andria, è un alcolista cinquantenne con gravi problemi psichici, dopo aver perso il lavoro si è separato e ora non può più neanche vedere i suoi figli. Una vita che ormai scorre inesorabilmente tra il disagio mentale e la schiavitù dell'alcol. Sempre più spesso l'uomo è oggetto di scherzi, insulti e angherie di chi approfitta delle sue condizioni. In genere si tratta di giovani e giovinastri che poi nell'era dei social approfittano per mettere in mostra le loro bravate. Sulla vicenda sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto e che dovranno individuare i responsabili. A guardar bene non si tratta neanche di uno scherzo di pessimo gusto, ma di un esempio di stupidità che non ha limiti e di una mancanza di rispetto verso le persone deboli che andrebbe punito severamente, senza sé e senza ma.